E qui RFM Fox, ci vediamo all'inizio della prossima parte di Resident Evil, il filmato, cioè... Via! Via! Lasciamo che il fuoco del cielo purifichi la Terra. Con queste soluzioni unilaterali non farete altro che far nascere un altro Abelco, o magari 10. Se, ecco il punto dolente. Sono i gruppi come quello che giustificano la nostra esistenza. La Queen Zenobia Oh diavolo Ho quel che ne resta Attenta, c'è qualcosa laggiù Oh cacchio A parte che non ha impostato i comandi bene Dannazione, vediamo se cosa fa lì In diretta Scusate ma Dove bisogna sistemare ogni volta Sto cazzo di Cosa, com'è che è impostato lì sopra Oh Un secondo, eh Moto Ninjoy sta facendo I capricci Ok Scusate l'interruzione Adesso dovrebbe ripartire tutto per bene Eh, si fa quel che si può Nel mondo, nella vita Via Ma dopo mi scontrollano di merda sti cosi RB Che cazzo è RB Ah ok Minchia ma ste parti qua sono palloso Ah ok, con X Raffreddo Nel senso che Per un po' non posso sparare Cacchio Dove ho sparare sto coso O dove ho sparare i proiettili che arrivano e basta Ma che brutti I livelli di corrette sono sempre brutti Come in tutti i giochi E anche io sono Andicappato nel giocarli Però Ma come cazzo si fa? Ah che palle Questi livelli qua li fanno quando non voglio di rompere il cazzo Secondo me Oggi voglio di rompere il cazzo Ai giocatori Fare questi livelli Orribili con le torrette Ma è che schifo Spero di farci ugualmente Anche se questi livelli sono negato Mi sto avvicinando alla Quinzenobia Spero Cacchio E che palle Ho anche le granate Ma non le uso Sono stupido Ma le uso male Sono stupido Mi sembra di stare avvicinandomi A Quinzenobia Credo Cazzo Merda Ho solo una pillola Ho solo una cazzo di pillola Aiuto Aiutami mondo Se cazzo di differenza tra l'analogico Destro e sinistro In questa Secondo me no Ok c'ho di nuovo Le tre granate Non so come ho fatto a prenderle Ma è buona fortuna Chris Dimmi che è finito Se è finito sono contento Oh che bello Che felicità Che allegria Filmato però Possiamo salire da qui Jessica L'abbiamo promesso Andiamo Ottimo Una crociera Noi due soli Peccato che stia fondando Gentili benefattori Della PSA Avete fermato La regia Solis Ora vi rivelerò quello che so Tutto quello che so sulla Queen Zenobia E i segreti che custodisce Quali segreti? Rifletteteci Primo Perché la Queen Zenobia è saltata fuori soltanto ora? Come ha potuto vagare per il Mediterraneo senza essere vista? Non per magia Secondo Perché dopo il panico di terra grigia si è persa ogni traccia dell'Aveldro? Perché non ce lo dici tu, eh? Ah E terzo Perché qualcuno tenta di usare la regia Solis per distruggere la Zenobia? Le risposte a queste domande vi condurranno a una verità scomoda L'hanno fatta scoprire E qui Jessie Perché hai sparato? Per proteggere i nostri Non è il nostro lavoro? Non provare a morire Oh, diavolo Raymond Ma Perché? Perché spacciarsi per l'Aveldro? Io Sono Che cosa vuoi dire? Scopri la verità sua Terra grigia Oh, Jessica la testa di cazzo Ma che cazzo spara? Cioè, sali a sparare a un tizio che parla Ma mica stava minacciando niente Vabbè Poi colpo di scena in realtà Raymond è Quello che si fingeva dell'Aveldro Comunque è bello Che stava lì cercando di parlare Lui che si avvicina con l'orecchio Alla bocca per sentire meglio Andiamo avanti Tanto è durato solamente due minuti Ok, è filmato sicuramente Che perdita terribile La nave non reggerà a lungo Non possiamo lasciare che il virus contamini il mare Dovrebbe essere come la quina Semiramis Forse so dov'è il laboratorio della nave Ci andiamo subito Ottimo Cercherò di scoprire come tenerla a galla Jessica, vieni con me? Sì Uno scambio di coppie dovrebbe contribuire a tenerci svegli Ricevuto Noi pensiamo al virus Voi a guadagnare tempo Perfetto Jill, funziona ovunque Anche sott'acqua Dovrebbe rallentare qui così Grazie, Chris Inoltre, ho indicato dove potrebbe trovarsi il laboratorio Non coglie mai segnali Che rincoglionito Forse è già occupato, Jessica Aspettavo dei dialoghi, ma niente Come non detto No Credo che abbiamo sentito solo metà della storia Ci sono aspetti di questa missione che non mi sono chiari Vabbè Ok Praticamente abbiamo Chris come alleato invece che utilizzarlo Il che non so Non so se dire che è normale o è strano Però a quanto pare è così Cerchiamo oggetti Qui c'è munizioni, vabbè niente Vediamo se ci sono potenziamenti ma non credo La luce del sole Dato che è mezzogiorno mi sta andando fastidio che entra dalla finestra Dalla azione Wow Vabbè sono le armi di Chris E' un mitra questo Vediamo un po' se è più potente del mio E' un po' più lento Questo E' un fucile a pompa Più potente del mio C'è più munizioni del mio Vabbè che non aveva molta differenza E' meno potente del mio Quindi non lo prendo L'altra vista non lo so Lo uso quando Intanto Comunque posso sempre tornare qui a prenderlo Quindi ok va benissimo Però devo potenzialarmi Sì No non c'è un cazzo di potenzialmente quindi niente Ok andiamo Chris Dove cazzo dobbiamo andare? Andiamo Per la porta Va bene Ok Andiamo di qua allora No niente Niente di che Avessi il pulsante detto Uh c'è qualcosa Invece niente Scendiamo Tengo equipaggiato il mitra Perché Non si sa mai Oggetti in giro Erba Vabbè in realtà Sono già 4% Eh 4% Seguanotte Quindi devo andare Quindi devo andare sott'acqua Ah che palle Ecco un coso Non voglio Sprecare granate Contro sto Cesso di nemico Ok andiamo su subito Però Scendiamo Scendiamo Aspetta Qui dove sono andato Sono venuto prima No no non è Così No è troppo alta La scala Se no sono un coglione Comunque Sono un coglione Yahoo Andiamo giù va Andiamo di qua Nah Non in mezzo alle pale Andiamo di qua Cerchiamo di non farci Inculare dal mostro Stavolta Non mi inculare Vabbè vincula Chris Che tanto di lui Non me ne fega un cazzo Dunque Chris Rinuncia alle avance Di Jessica Vabbè che è deficiente Come ti Quella T6 È proprio idiota Però Non è una brutta donna Chris Svegliati Per effetti L'idiozia È una cosa La sentina Uh ecco di qua Mi chiedevo andare in acqua O si Uh C'è un cartello O niente Andiamo di qua Ah comunque Ho guardato Le Le specifiche Per vedere se il mio computer Fa girare Resident Evil 6 E a quanto pare No Però la cosa divertente È che Resident Evil Revelation Anche lui Non incontra Le specifiche del mio computer Eppure gira benissimo Quindi Cioè vedete Sta girando una meraviglia Cioè se faccio Di risoluzione bassa Che onestamente Se fosse a scambio intero Di risoluzione bassa Sarebbe una cosa divina Perché veramente Io A me la risoluzione bassa Non farei un cazzo A me interessa la fluidità Quindi giocherai anche Per 640 Per 480 Basta che sia fluido Lo farei davvero Non è che dico per finta E niente Vabbè Praticamente Girando sullo stesso engine In teoria I cosi Le specifiche tecniche Dovranno andare bene Anche sul mio computer Quindi Forse farai Resident Evil Revelation Ehm Il 6 Non credo Ma forse Però comunque Ce l'ho anche Sulla PlayStation 3 Quindi vedrò Cioè Più che altro Ero curioso Di prendere per il computer Per vedere Se andavano le mod Però devo ancora valutare La cosa Beh comunque I soldi Non sono infiniti Quindi Girati dal cazzo Io non è che Sono pieno di soldi Sguazzo nell'oro Quindi devo vedere Se ce l'ho a voglia Di spendere soldi Per semplicemente Per delle mod Comunque sono bellissimo Ho visto delle mod Fantastiche Su Di Resident Evil 6 E a me le mod Piacciono un casino C'ho proprio fatto Un canale sopra Le mod Quindi Che non le faccio io Ma Gioco a quelle degli altri Però a me piacciono un casino Le mod Niente Potrebbe essere Che comunque Comincio a fare Alcuni video Sulle mod Non le faccio centinaia Le faccio qualcuno Però Ma non è male Insomma Anche in Revelation C'è qualche mod Però non tante come il 6 Per ovvi motivi Credo Suppongo Perché comunque Sì Penso che il 6 Avendo più modalità Avendo modalità Sopravvivenza Tutta questa roba qua Sia molto più bello Da giocare Ma cazzo Ha fatto arrivare lì Uh Sia diciamo Più apprezzato Dalla comunità Dei modificatori Tra virgolette Quindi Avendo più cose da fare Avendo dei comandi Comunque migliori Perché è uscito dopo Quindi c'era tipo La corsa E cose così Cose di questo genere Insomma Penso che Quelli che modificano I giochi Abbiano più piacere Di modificare Senta il 6 E tutto il resto Quindi Non rispondere Ok Tanto io ho tempo Infine Quindi posso controllare In gira Come l'ho già detto La musca Mette l'illusione Che ci sia un limite Di tempo Ma in realtà Non c'è Ok Bravo Che si sape anche per me E vaffanculo Cosa chiudi Vabbè Non è che Ha chiuso lui Però Sembrava Qui c'era Rachel Niente Non c'era più Rachel Meglio così Comunque Però sono sicuro Che riapparirà Ho come l'impressione Che sono persone Di quelli che rompe il cazzo Fino alla fine Anzi Ho la certezza Che sia Ma basta Dannazione Oh Dicevo io La senta V6 L'ho preso Per giocare in cooperativa Per PlayStation 3 No Perché io I miei giochi Che figo C'è il tridente Cazzo Comunque Dicevo L'ho preso Per giocare in cooperativa Comunque l'ho apprezzato Tantissimo Come gioco in cooperativa Cioè Vuol dire Un bel gioco Cioè Vuol dire Alla fine Non è nulla Di particolare Ma è comunque Abbastanza divertente Da giocare in cooperativa A me è piaciuto molto Lo split screen Diciamo che è la cosa migliore Di ogni cosa Secondo me Batte qualsivoglia Esperienza di gioco Che possa dare in più Un computer Rispetto alla console Lo split screen Infatti Non so perché Quelli che fanno I giochi sul computer Non metta anche Sul computer Lo split screen Quelli che può essere Teste di cazzo Però vabbè Lasciamo star Sti discorsi E l'unica cosa Mi piace di più Sul computer Che sulle cose Che sono le mod Che comunque Uguali a poter Mettere mod Anche sulle console Perché E a real turnament 3 Lo faceva Senza problemi Sì ho capito Non so tagliare il braccio A uno E metterlo lì Non si apre Dove cazzo Devo andare Ah è rotto il vetro Vabbè Non udiatemi Per quello che ho detto Che preferisco il console Per via dello split screen L'unica cosa Cioè vuoi dire Per me A me il gioco online Sta sul cazzo Ok Non mi piace Invece Lo split screen Mi piace Perché comunque Giocare di fianco Al proprio amico Come cazzo è Che sta andando Così dentro il gioco Secondo Non so Ho avuto un attacco Di E quindi Cioè basta andare qui Diceva a me Lo split screen Per me lo split screen Vale Più di 1599 milioni Di Di Migliorie grafiche O modalità online Strane Fanculo L'online Cioè a me Non mi frega un cazzo È come giocare Contro al computer Ma Ma con lag Fine Per me è questo Sì sì Lo so Cioè vabbè Intanto ci gioco Ma a parte Rostas Per dire Non mi sono mai divertito Online Sì sì Ma niente Sono subito indietro Sì sì Ma a chi cazzo ci va Prima modifico le mie armi Adesso Non odiate Mi sono opinioni Contrastanti con le vostre Perché è una cosa stupida Non so stretta Vediamo un po' Dove lo posso sostituire Proviamo Qui a sostituire Il Rateo fuoco Quella La rosa stretta è La rosa di quel BVC Sì sì Boh Lo metto qui Non so Non è potenziato Di niente Ma Anche se no Metto anche il rateo Ci può? No non ci può Giusto Da qualche parte Quel cazzo di rateo Niente Non so magari Ah questo qua è un corso Vabbè niente Vabbè a parte Le cazzate Sto dicendo No non perdete Non odiate Mi sono opinioni Diverse Ma è che io Proprio non mi piacciono online Non mi è mai piaciuto Ma che il PlayStation Plus qui Vuole farcelo dare A pagamento a tutti Io sarei il primo A non Pagarlo Non me ne frega un cazzo Non pagherò Non giocherò online A chi se ne frega Non avrò quei due o tre giochini In 2D Che danno Gratis Tra virgolette Gratis Danno in prestito Se pagate l'abbonamento Con quei giochi Preferisco averceli completi Proprio Anche pagando Un documento Sullo sviluppo Di scarmiglione Scarmiglione È una bov Che utilizza il DNA Di uno squale Il profilo genetico Dello squale È cambiato molto poco Nel corso dei milioni di anni La sua storia Di predatore È quasi rimasta invariata L'uso del suo DNA Fora di una feroce aggressività Queste armi biologiche Lo scarmiglione Come forma colore Oce Se Se Dobbiamo affrontare Un nemico Che si chiama scarmiglione Andiamo qua Ah siamo divisi No ci mettono Il gas E ci uccidono Che è sto colore Tipo LSD Attento Chris Non so cosa è successo Ma attento Che se muori Muore il personaggio Più Più giovane Oh cazzo Da che parte Ah ecco da lì Merda È lo scarmiglione Questo qua secondo me Sì ma c'è lo scudo Dannazione È emergenza Non è che devo scappare Vieni vieni E come cazzo è entrato Ok Una granata ci sta Ma non da qui da me Oh Bam Calcio Il calcio come fa più male Le proiettili Sto cazzo di gioco Cosa che fai La carica no Come cazzo ho fatto schivarlo Non lo so No Nanananananananana Granatas Merda Un altro calcio Che fa male Come i proiettili Chris Grazie Guarda Sei gentilissimo Uccidilo per favore Ma cazzo Ma la sua pistola Penetra lo scudo Io ando di qua Si sa mai Che ci sia qualche oggetto Infatti Ok ovviamente Stanno attento Di dietro Perché se no Minchia Altre Ma quanto è che troviamo Adesso di queste cose Chris Ammi la mano Boh ma che brava È bravissimo Riesce a sparare In punti Dove in teoria Puttana merda Non me l'aspettavo Questo È stato buono Lì fino adesso Per tirata ganata Guarda Da che ci siamo Tu spara Intanto Bravo Chris Tu sei bravo Merda 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 Ma che due Coglioni Yes Ciao 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 Dove è andato? Te la prendi un po' Con Chris Anna Neanche lui esiste 1.27 Ok Ma si può uccidere sto tizio? No solamente per capire Due ore che gli sto sparando Eh 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 Stavolta non mi becchi Ah però le gambe gli fanno male eh Chris Spar Uh E dai Sto usando tutte le munizioni Su sto cesso di cosa Uh Pugno 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 Muori Dimmi che è morto Dimmi che è morto Please Cazzo Non dovevo ricaricare Beh è morto Dai Un'altra volta posso farlo? Faccio in tempo? Sì Sì Ho fatto in tempo Ho fatto in tempo Poi Un'altra pillolina per me Ok Sangue sul muro Vuol dire Vuol dire Vuol dire che qui è morto qualcuno Che sfiga Oppure che qualche ragazza Ha avuto dei suoi Eh Sto andando a 15 fotogrammi La cosa mi piace molto Ovviamente sto scherzando È poco Ok Ma questa ambientazione qua è fatta molto bene Con Se gioco senza registrare il gioco va da dio Il gioco va alla perfezione Però se gioco registrando Un po' scatti Un po' tanto scatti Vabbè Mi accontento perché tanto non fai gran cazzo Ma anche se ho 15 fotogrammi Registo benissimo lo stesso Tipo adesso sta andando a 25 Proprio la stanza di prima che stava antipatica Ecco 30 20, 30, 31 Che 31 come se il limite di 30 Ah ok 29, vabbè Non lo so, non capisco un cazzo Devo smettere di guardare sopra Ciao Chris Guardiamo il soffitto Tu che dici guardiamo il soffitto Ho detto guardiamo Ma non guardare ma guarda il soffitto Vabbè ora non guardare il soffitto Vuoi che ti dica E' un po' la ciaquettura Non cazzo Qui bisogna Uh quello di aver analizzato Bel dialogo che non state ascoltando Leggete ovviamente Se volete sapere cosa dicono Che avete una connessione migliore della mia Quindi la definizione quando caricate il video Sicuramente sarà altissima Io invece quando carico il video Ho veduto tipo 3 pixel Tutto il video 1044 è proprio tagliato E' filmato Il virus deve essere in questa area di ricerca Così è questo il segreto della Zenobia Vuol dire 144 Non mille Però wow Ah è durato 16 minuti A me è sembrato 2 minuti Mi è sembrato Bene E con Resident Evil E' tutto anche per oggi Purtroppo perché voglio andare avanti E' azione E' niente Ci vediamo Domani Ho preso un corso di modi illegali La come si chiama Quindi farò meglio a utilizzarlo Salviamo Niente FFox alla prossima Commentate Vedo comunque qualcuno ogni tanto commenta Comunque faccio su dei Quasi 100 visualizzazioni dopo un po' All'inizio un po' 30 Vabbè di questi 30 C'erano 20 che commentano Sto andando un po' utropicamente E lo faccio per spornare la gente a commentare di più Perché a me piace ricevere i commenti Piace più ricevere i commenti Che ricevere un numero alto di visite C'è avere tante visite Poi pochi commenti Non c'è gusto Boh niente A presto il foco alla prossima Ciao